Avanti! Ciao Chiara! Finalmente ti ho trovata! Questo posto è un labirinto! Beh, alla fine ce l'hai fatta però. Pronta ad iniziare? Sì! Non vedo l'ora! E voi siete pronti? Cominciamo allora. Benvenuti ai Laboratori Nazionali di Frascati, il più antico centro di ricerca per la fisica nucleare e subnucleare in Italia. Incredibile! Quanto è antico? E perché è stato fondato? Piano con le domande. Andiamo con ordine. I Laboratori Nazionali di Frascati sono stati fondati nel 1955. In quegli anni la fisica delle particelle e la scienza che studia le particelle che compongono tutto ciò che esiste si stava sviluppando molto grazie ad alcune importanti scoperte. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare decise allora di investire in questa ricerca e affidò ai Laboratori Nazionali di Frascati il compito di costruire gli strumenti per poter studiare le particelle, gli acceleratori. Un compito davvero importante. E siete riusciti a costruirli? Certo! Già nel 1961, dopo soli sei anni, riuscimmo a costruire un nostro strumento, ADA. Gli avete dato anche un nome? Tutti gli strumenti ne hanno uno. In questo caso, ADA è l'abbreviazione di anello di accumulazione. Al suo interno si accumulavano particelle che poi venivano fatte scontrare tra di loro per studiare alcune loro proprietà. ADA è una parte fondamentale di storia della fisica delle particelle perché ci ha permesso di capire come costruire molti altri strumenti. I moderni acceleratori di particelle si comportano in maniera simile, mandano le particelle al loro interno sempre più veloci e poi le fanno scontrare tra loro per produrne altre e studiarle. Forte! Chi è stato a costruirlo? In realtà non è stata una sola persona a costruirlo, ma sicuramente il papa di ADA è stato Bruno Tuszek, un fisico austriaco che lavorava a Roma già da alcuni anni. Il nome ADA è infatti lo stesso di una zia di Tuszek, zia che gli fu molto vicina dopo il trasferimento in Italia. Fu proprio di Tuszek l'idea alla base della realizzazione di ADA e del suo successore, Adone. Il suo lavoro e quello del suo gruppo di ricerca è stato alla base di molti dei moderni acceleratori di particelle. Ma iniziamo la nostra visita ai laboratori. Eccoci qua. Tutto parte dallo strumento in questo corridoio, il LINAC, un acceleratore lineare. Qui è dove sono prodotte le particelle da cui parte tutto il nostro lavoro, gli elettroni. Elettroni? E cosa sono? Come fate a produrli? Gli elettroni sono delle particelle molto piccole che si trovano all'interno degli atomi. Sapete che sia noi sia tutto ciò che ci circonda è formato da atomi. Questi atomi a loro volta sono composti da un nucleo con protoni e neutroni attorno al quale ruotano gli elettroni. Gli elettroni sono delle particelle molto piccole e leggere dotate di una carica elettrica negativa. Tramite il nostro cannone elettronico riusciamo a strappare gli elettroni dai loro atomi e a spararli nell'INAC. Wow! Un cannone elettronico! E dopo averli sparati nell'INAC, che succede agli elettroni? Il compito principale dell'INAC è di accelerare le particelle, mandandole ad una velocità molto vicina a quella della luce. Questo è necessario perché più le particelle saranno veloci, più avranno energia. E fa scontrare tra loro particelle ad alta energia e l'unico modo che abbiamo per produrne delle altre, che sono poi quelle che vogliamo studiare. E gli elettroni contro cosa li farete scontrare? Nell'acceleratore di particelle Daphne, che visiteremo tra poco, gli elettroni vengono fatti scontrare con dei positroni, delle particelle di antimateria identiche agli elettroni a parte una singola cosa. Hanno una carica elettrica positiva, opposta a quella degli elettroni. I positroni vengono creati sempre nell'INAC, facendo passare gli elettroni attraverso una lamina di tungsteno. Una volta prodotti, vengono accelerati anche loro nell'INAC, pronti per la prossima fase. Ed una volta arrivati alla fine dell'acceleratore, dove vanno a finire elettroni e positroni? Dov'è che si scontreranno? Prima di farli scontrare c'è bisogno di un altro passaggio. Ciascun tipo di particelle deve essere impacchettato, in modo da formare dei gruppi di particelle tutte ravvicinate tra loro, grandi come uno spillo, ma con all'interno circa 100 miliardi di particelle. Questo processo viene eseguito nell'accumulatore, una struttura d'anello dove a turno gli elettroni o i positroni girano, e ad ogni giro si stringono sempre di più tra loro. Quindi nell'INAC, elettroni e positroni vengono mandati velocissimi. Poi nell'accumulatore si impacchettano per bene. E dopo? Dove vanno a finire? Vengono trasferiti all'acceleratore di particelle Daphne. Andiamo anche noi. Wow, ma è grandissimo! Sembra di essere su un set di un film di fantascienza. Cosa c'è scritto lì in alto? Altro che fantascienza, qui è tutto verissimo. Questo è il nome del nostro acceleratore di particelle circolari. Si legge Daphne ed è scritto con la lettera greca Φ, che si legge come una F e che al tempo stesso è il simbolo fisico con cui si indica la particella che viene prodotta da Daphne, il mesone Φ per l'appunto. Daphne è un anello di collisione per elettroni e positroni, un acceleratore di particelle speciale, il primo del suo tipo, una vera e propria fabbrica di particelle Φ. Con Daphne, invece di cercare di avere fasci di particelle ad energie sempre più alte, si è scelto di seguire un'altra strada, quella di avere un grandissimo numero di scontri tra particelle per poter studiare meglio quello che succede dopo questi scontri. Ma come fanno le particelle a viaggiare in questi anelli? Sono così piccole e veloci che potrebbero scappar via facilmente? Le particelle che viaggiano all'interno di Daphne vengono guidate grazie a questi potenti magneti che riescono a far girare le particelle e a mantenerle impacchettate tra loro. In questo modo non possono fuggire via. Gli elettroni girano in senso anti-orario ed i positroni in senso orario. Pensate che negli anelli di Daphne circolano più di 100 pacchetti, composti da più di 100 miliardi di particelle che compiono 3 milioni di giri in un solo secondo. Incredibile! Ma sono tantissime! Ed ogni volta che un elettrone ed un positrone si scontrano, producono una particella Φ? In realtà non succede sempre. Delle volte quando si scontrano le particelle rimbalzano via come quando si scontrano due palloni. Le altre volte invece le due particelle si fondono tra loro, dando vita ad una particella Φ. All'interno di Daphne si producono più di 300 particelle Φ al secondo. E queste nuove particelle che Φ ne fanno? Dopo tutta la fatica per crearle sicuramente non ve le lascerete scappare. Hai proprio ragione. Il nostro scopo è studiarle e quindi dobbiamo raccoglierle da qualche parte. Il problema è che le particelle Φ non sono stabili e dopo un tempo brevissimo si trasformano, lasciando al loro posto diversi tipi di particelle più leggere. Le più abbondanti sono le particelle K, chiamate anche caoni. Ma come? Così tanta fatica e loro scompaiono subito. È un peccato. Però avrete un sacco di caoni a disposizione. Quelli riuscite a studiarli o succede qualcosa anche a loro? Ottima intuizione. In realtà già sapevamo che le particelle Φ hanno vita breve. Ed è per questo che nel punto dove avvengono gli scontri che le formano è stato installato uno strumento in grado di studiare le particelle K, il rivellatore Chloe. I caoni che si formano dalla particella Φ lasciano all'interno di Chloe come delle impronte del loro passaggio e della loro energia. In questo modo Chloe può memorizzare tutti i dati delle particelle K e trasmetterli a dei computer dove i ricercatori e gli scienziati possono studiarle. Pensa che in un anno vengono prodotti più di un milione di gigabyte di dati. La stessa memoria che sarebbe occupata da più di 200.000 dvd. 200.000 dvd? Ci vorrebbe tutta la vita per guardarli. E da tutti questi dati che risultati state ottenendo? I dati raccolti da Chloe ci aiuteranno a capire meglio alcuni punti ancora incerti della fisica. Capiremo meglio la differenza tra materia e antimateria e come mai quest'ultima sia realissima nell'universo che ora è composto da materia ma che alla nascita conteniva anche tanta antimateria. Inoltre Chloe potrà darci anche interessanti informazioni legate alla materia oscura, un tipo particolare di materia di cui sappiamo ancora veramente poco. Oltre a queste applicazioni puramente scientifiche, l'aver costruito strumenti come Daphne, Chloe e tutti gli altri moderni strumenti legati allo studio delle particelle si è rivelato utile anche in altri campi come quello industriale e medico. Degli appositi fasci di particelle prodotti da acceleratori vengono usati nella diagnosi e nella terapia di alcuni tipi di tumore, mentre altri sono usati come bistori di precisione in chirurgia. Fantastico! Gli acceleratori sono davvero degli strumenti incredibili. Grazie per averci spiegato così tanto sul loro funzionamento. È stata una bellissima visita. Spero ci incontreremo presto. Grazie a te, grazie a tutti voi per averci accompagnati in questo viaggio nei laboratori nazionali di Frascati. Vi aspetto per la prossima visita.